Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stefano di Sansa ed oggi vi parlerò di un'applicazione che ultimamente sto usando davvero molto. L'app si chiama Fuji, è questa qui, e tra poco la andremo a vedere più nel dettaglio. Prima però faccio una piccola premessa, quelli di voi che magari sono già iscritti al canale o che mi seguono su Instagram sanno che a me piace molto scattare con questa, che è una vecchia yashika, una reflex vecchia, analogica e a pellicola. Mi piace scattare su pellicola perché adoro la resa che viene fuori da queste foto, cioè mi piacciono i colori, i giochi di luce, la grana, che hanno proprio le pellicole. Ed è qui che finalmente mi ricollego all'applicazione di cui voglio parlarvi, cioè Fuji. Questa applicazione, anche a livello grafico, come potete vedere, va a simulare quelle che un tempo erano le vecchie macchinette usa e getta. Più nello specifico io credo che vada ad emulare quelle della Fujifilm. Questo per via del verde, che mi ricorda molto le macchinette usa e getta Fujifilm, e soprattutto per la resa cromatica che hanno le foto che fa questa applicazione. E sì, perché non ricorda solo esteticamente le macchinette fotografiche usa e getta, ma ne va proprio a simulare quelli che sono gli scatti. Come potete vedere l'interfaccia è molto semplice. Abbiamo il pulsante per attivare o disattivare il flash, abbiamo il pulsante di scatto e poi qui in alto, sulla sinistra, abbiamo il mirino, che se noi ci clicchiamo sopra, ci tappiamo sopra, si apre e si espande. Così possiamo vedere bene quello che stiamo inquadrando. Poi, se ci fate caso, qui abbiamo il pulsante per la qualità delle foto. Abbiamo il pulsante per attivare un timer di 3 secondi, di 10 secondi o disattivarlo. Abbiamo invece questo pulsante qui, che serve per attivare o disattivare eventuali effetti di luce, come i blur, le bruciature della pellicola, o cose strane, insomma, questi effetti di qui. E abbiamo il pulsante per girare la visuale della fotocamera. Se poi quasi dimenticavo, infine abbiamo anche il pulsante Lab. Se noi andiamo qui sul pulsante Lab, possiamo vedere tutte le foto che noi abbiamo già scattato con questa applicazione. Se clicchiamo qui, andiamo sulle impostazioni e possiamo decidere se mettere una data alle nostre foto, cioè un timbro proprio sulla foto con la data, che può essere quella attuale, nessuna, o una data simulata nel 1998. Se clicchiamo sul formato, appunto, possiamo scegliere il formato che deve avere la data che si imprime sulla foto. E qui adesso finiscono le opzioni che si hanno con la versione base di Fuji. Se sbloccate la versione Pro, potete avere tutte queste altre opzioni che ho anch'io. Un'altra cosa che si può sbloccare con l'opzione Pro è la possibilità di andare a selezionare, quindi ad applicare gli effetti di Fuji su foto che abbiamo già scattato con il cellulare. Quindi ci basterà cliccare sul più, si aprirà la galleria e possiamo scegliere quelle che sono le foto. Bene, io direi di avervi spiegato in maniera fin troppo esaustiva quello che è questa applicazione. Quindi per questo video possiamo dire che è tutto. Nel frattempo però che io continuo a parlare state vedendo alcune foto che io ho realizzato con Fuji. Prima di salutarvi però io, come al solito, vi invito a lasciare un like a questo video, a commentarlo se avete bisogno di ulteriori informazioni. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti e di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video. E come ultima cosa, ma non meno importante, vi ricordo che in descrizione nel video trovate tanti link utili, tra cui quello per scaricare Fuji sia dall'App Store che dal Play Store di Google e trovate anche il link al mio profilo Instagram perché lì nelle stories vi aggiorano quotidianamente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!